Dal 30 maggio al 2 giugno Napoli ospita la prima edizione italiana del Festival Europeo di Design, curata e organizzata da AIAP, Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva. Napoli fra 11 città italiane è quella che è arrivata prima come candidatura italiana, in fase di valutazione finale c'era ancora un confronto con Lausanne e con Glasgow, ma Napoli è stata preferita proprio per questo, città particolarmente rappresentativa della complessità sociale e anche economica, delle microeconomie, di principi di inclusione. L'evento è dedicato a designer e creativi da tutta Europa, ma mira a coinvolgere anche un pubblico più vasto, sono previsti workshop, dibattiti, passeggiate cittadine, spazi espositivi che si terranno nel corso delle quattro giornate in diversi luoghi simbolo della città. Due laboratori molto belli, uno sulla legatoria e uno sulla calligrafia su porcellana che facciamo alla Reale Fabbrica di Capodimonte. Abbiamo tre city strolling, quindi passeggiate cittadine che riguardano le epigrafi urbane, che riguardano gli street artists napoletani, che riguardano i punti di vista insoliti della città di Napoli, da cui guardare la città di Napoli, abbiamo degli open studio walk, che sono incontri con designer napoletani nei loro studi, nei loro luoghi di lavoro. L'evento clou della rassegna sarà il conferimento dei prestigiosi premi annuali e di awards sabato 1 giugno al Teatro Mercadante, assegnati a designer che si sono distinti per le migliori realizzazioni nelle diverse categorie. L'evento clou della città di Napoli,